Benvenuti alle Teorie di Darwin, protagonisti che raccontano e si raccontano e con grande piacere che ho qui nel mio salotto Maria Antonietta Macciocu. Scrittrice, nata a Sassari, vive a Torino dal 74, laureata a Cagliari in lettere, ha insegnato italiano e storia, nel 2010 ha pubblicato le poesie dedicate alla Sardegna Amore che non tocca. In libreria trovate, scritto con Donatella Amoreschi, edito da Mediando, Petaglie, romanzo sardo piemontese. Benvenuta. Ciao. Tutto bene? Grande forma? Il romanzo va bene? Il romanzo va bene, alla terza edizione. La terza edizione, forse una miglior distribuzione non guasterebbe. Eh sì, dopo ne parleremo. Lo diciamo all'editore. Dopo ne parleremo della distribuzione. Adesso cominciamo il tuo percorso con delle fotografie, devo dire, sorprendenti e molto belle, per raccontare un po', come nel romanzo Petaglia, la storia d'Italia dal risorgimento ad oggi. La prima fotografia, Cucitrici di camice rosse, di Edoardo Borrani, nato a Pisa nel 1883, morto a Firenze nel 1905, questa è un'opera, nel 1863 esposta per la prima volta a Torino. Borrani è molto amato a Castiglioncello, dove io vado spesso, il pittore della luce tra i macchiaioli più importanti. Ecco, Maria Antonietta, perché questa scelta così bella, così luminosa? Così luminosa, perché appena abbiamo visto il quadro, ci siamo rese conto che involontariamente, perché naturalmente non sapeva che avremmo scritto un libro storico con delle donne ottocentesche, abbiamo visto che rifletteva molto lo spirito delle nostre donne, perché noi partiamo naturalmente dall'Ottocento per raccontare il risorgimento, dal 1870 ma con flashback al 1848 per arrivare fino ad oggi e le nostre donne, a differenza della quotidianità comune di quegli anni, sono donne che si occupano del sociale e del politico, ma se ne occupano come se ne potevano occupare allora, cioè in che modo? Noi abbiamo usato un termine, facendo le mani di fatta della patria, cioè ricamando paramenti, cucendo camicie rosse, il sudario di Garibaldi, le donne di Sassari, quindi con quella presenza donnesca che era l'unica messa in quel periodo, cioè nel chiuso della casa, nella compostezza, infatti sono donne molto composte e molto ordinate nella compostezza della casa, in quanto invece l'azione fuori di casa, fuori casa, era rara e riservata più che altro ai tumulti e alle popolane, molto meno alle borghesi e alle nobili. Maria Antonietta, veniamo alla seconda fotografia, noi facciamo un salto in avanti nel tempo, perché abbiamo un gruppo di partigiani, siamo subito dopo la liberazione, nella foto di Robert Capa, tu tra l'altro sei nato un anno dopo la liberazione, ecco perché questa scelta? E questa è stata una scelta mirata, perché dalle donne che cuciono alle donne col moschetto, alle donne che combattono, che hanno combattuto, che sono morte, che sono entrate in un mondo di uomini e ahimè sono state costrette a fare la cosa più tremenda che potessero fare gli uomini, sparare, uccidere, imparare a difendersi e a difendere il paese, quindi ci sembrava molto molto importante questo, cioè mostrare questo salto dall'ordine, dalla luce, dalla misura, dalla compostezza, dalla riservatezza di quelle donne del quadro di Borrani, alla strada, alla presenza, alla commissione con i maschi, perché comunque non era così facile prima della guerra, se non anche lì in determinate situazioni, certo non si era più come nell'Ottocento, quindi abbiamo voluto creare proprio una rottura, cioè dimostrare come la guerra, già la prima guerra mondiale aveva portato le donne fuori da casa, ma non a combattere, invece la seconda guerra mondiale le porta proprio a diventare delle combattenti. E soprattutto la resistenza. La resistenza.